Non ce la facciamo più, ci sentiamo prigionieri della riforma Fornero e vorremmo che questo governo ci desse domani ad andarcene e far entrare i nuovi ragazzi, i nuovi giovani. Voi siete i famosi quota 96? Sì, ma io sono un quota 104, 42 anni di contributi e 62 di età. Ma cosa è successo? Vi avevano promesso di andare in pensione e poi il governo ha fatto marcia indietro perché non ci sono i fondi? Alla Camera è andato tutto ok, al Senato si è bloccato e quindi siamo ancora qui, lunedì torniamo tutti in cattedra. Con 62 anni e 41 di servizio io devo stare ancora a scuola, bene Renzi, prendi uno, pagherai due perché se sto male io vado a casa e pagherai me e la supplente. Io devo dire al governo Renzi basta chiacchiere, basta parole, basta promesse, mantenga quello che ha promesso perché nel momento in cui il nostro emendamento è stato bocciato al Senato, anzi ritirato, lui ha promesso che ci avrebbe sistemato, noi aspettiamo di essere rottamati, non chiediamo altro. che il Parlamento all'unanimità ha riconosciuto che si è trattato di un errore, questo già è stato riconosciuto all'unanimità dal Parlamento ad agosto, quindi voglio dire non si può sconfessare il Parlamento. Lei chiede un decreto per... che si adegui alla votazione della Camera dei Diputati. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri tanto annunciato, si doveva parlare anche di scuola. Guarda strano, è slittata, come mai? Sono tre anni, in tre anni ancora non hanno trovato una soluzione per 4.000 persone? Dice lunga, è stato rinviato, contiamo zero, per loro è l'ultimo dei loro problemi. Precari della scuola in piazza oggi perché? Perché praticamente stiamo protestando per criticare il sistema delle graduatorie che ormai non garantiscono più l'assunzione in ruolo di tutti noi che invece siamo in quelle graduatorie da tantissimi anni. Di fronte agli annunci del governo Renzi che promette di assumere 100.000 precari? Noi non ci crediamo, non ci crediamo più per una semplice ragione. 100.000 assunzioni in tre anni sono un naturale turnover per la scuola italiana, 33.000 assunzioni all'anno sono un passo naturale che avviene ogni anno, quindi non c'è nulla di straordinario. Straordinario sarebbe stato se ne avesse assunti 33.000 questo primo settembre o 100.000 il 2015.